Leggo che il Presidente della Regione Lombardia vuole fare un referendum sull'autonomia. Bene, io vorrei sottolineare che oggi il Sud non è più, secondo me non l'è mai stato, ma mai come oggi il Sud, in particolare Napoli, capitale del Mezzogiorno, è zavorra di questo Paese. Quindi se qualcuno pensa di volersi creare un'autonomia perché è il meridionale che crea un guinzaglio, bene, Napoli oggi è la città d'Italia che è quella che maggiormente sta puntando sull'autonomia, che pratica l'autonomia e che ha rotto ogni guinzaglio. Quindi noi qua siamo assolutamente pronti a qualsiasi esperienza istituzionale, riteniamo che l'Italia unita e nelle diversità sia la formula migliore, ma noi stiamo qua e con queste iniziative vogliamo dimostrare che noi il processo di autonomia, indipendentemente dalle leggi, l'abbiamo già messo in campo. Quindi non arriverebbe una soluzione tipo quella del Presidente Maroni? No, ma non è diversa. Io la nostra proposta ci stiamo lavorando seriamente. Quella che Napoli, così come lo è stato Barcellona, che poi addirittura si è arrivato al referendum sull'indipendenza, quindi Barcellona, Hamburgo e altre città, Napoli che in Italia non c'è ancora una città che abbia un vero e proprio statuto autonomo. Ci sono regioni, infatti a Lombardia avanza evidentemente una proposta, non l'ho letta, ma evidentemente è un po' simile forse anche a delle regioni a statuto speciale o comunque chiaramente sono passati anche tanti decenni da quando ci stanno Val d'Aosta, Sicilia e le altre regioni a statuto speciale. Noi pensiamo invece di fare una cosa diversa, l'autonomia della città, della grande area metropolitana e questo è anche quello che abbiamo detto un po' oggi nella discussione sul bilancio, non solo la zona franca, l'iniziativa politica autonoma, proprio un processo che porta a un'autonomia statutaria, istituzionale, amministrativa, finanziaria, tributaria e questo è un processo che si è attivato dal basso insieme all'amministrazione. Ecco io credo che questa sia una vera novità, quindi non è una parte politica come la Lega che spinge sulla secessione o ancora con quella narrazione che il sud è zavorra, perciò la Lombardia si deve staccare perché se no è esattamente il contrario. Abbiamo dimostrato in questi anni che la maggior parte delle risorse pubbliche sono andate al nord, non sono andate al sud, io da sindaco di Napoli ne sono testimone per la nostra città, quindi noi non abbiamo nulla da perdere se qualcuno fa delle provocazioni, ecco questo lo voglio mettere in questo modo.